Oggi salto del cuscino Oggi salto del cuscino I miei amici Mi è appena arrivato il ciabatti No Oh mettete al posto il cuscino Mettete al posto il cuscino Si è avviata una rissa tra Undicenne e Tra diecenne e Tredicenne Allora dai venite a saltare Venite a saltare Consiste di saltare La sfida La sfida consiste di saltare Questa cosa Adesso arriva in soccorso Fratello Raul che metto a posto In realtà lo metto a posto Adesso chi tocca? A me Parte Raulito Raulito Ciao Franchito Gian Franchito adesso se ne va in calma Perché ha rotto il cazzo Gian Franchito ha fatto uno schifito Di maturi Gian Franchito ha fatto uno schifito Adesso parte Adesso parte Raul00 Andate a seguirlo Ancora lui Ancora lui Ancora lui Sgherito Sgherito Tocca a me Adesso tocca al sottoscritto Quello sono Oddio prova così Sì vabbè E' ovvio Sì forse Da qua ci sta Adesso parte Rubenito Rubenito gamer Gamer Oh Ciao Oh This is crazy Sì vabbè